La Regione crede fortemente e investe con convinzione nel settore aerospaziale, motori di sviluppo delle nuove tecnologie e traino per la crescita e l'occupazione dei territori. La nostra isola si pone sempre più come centro di riferimento nazionale per la ricerca e l'innovazione e attrattori di imprese e investimenti. Questa importante iniziativa porta avanti con partner d'eccezione come l'Agenzia Spaziale Italiana e il Distretto Aerospaziale della Sardegna, dimostra che siamo sulla strada giusta. E quanto ha sottolineato stamattina a Villa Devoto il Presidente della Regione, Cristian Solinas, e illustrare il progetto della società Avio denominato Space Propulsion Test Facility che prevede la costruzione di un banco di prova per motori a propellente liquido e un impianto per la realizzazione di componenti in carbonio a perdas de vogu all'interno del poligono sperimentale Interforce di Salto di Quirra. All'incontro sono intervenuti l'assore regionale della programmazione Giuseppe Fasolino, il Presidente del DAS Giacomo Cao e il Comandante del Poligono di Salto di Quirra e il Generale dell'Aeronautica Michele Oballa. Prende luce un progetto strategico per la Sardegna, ha sottolineato l'assore Fasolino, costruito sulla ricerca e sull'innovazione in grado di offrire consistenti opportunità lavorative. Abbiamo voluto investire in questa iniziativa ad alto contenuto tecnologico per il ruolo che la Sardegna potrà ricoprire in questo contesto a livello internazionale. Il progetto, cofinanziato dalla Regione, dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dalla società Avio, mette in campo investimenti per oltre 30 milioni di euro. La durata dei lavori di realizzazione delle opere è di 18 mesi e nei primi tre anni è previsto l'impiego di 21 persone che saliranno a 35. Si tratta di professionalità altamente specializzate come ingegneri, chimici, informatici e tecnici. L'area dove sarà realizzata l'opera ha un'estensione di circa 6,5 età all'interno del Poligono di Salto di Quirra.